La riempitrice ad area compressa Variofil della gamma professionale Telme lavora con gelato artigianale contenente pezzi solidi, adatta per il riempimento con qualsiasi prodotto pastoso. La capacità del cilindro è di 13 litri, velocità e pressione di erogazione regolabili secondo il tipo di prodotto. I comandi possono essere manuali o a pedale. È una valida alternativa a dosatrici di prezzo elevato. È ideale per laboratori di gelateria che vogliono preconfezionare coppette e imballaggi termici. Il lavaggio automatico del cilindro e del rubinetto di erogazione facilita l'uso e garantisce l'igiene. Grazie a tutti per aver guardato il video.